Dalia Mucciori dopo la vittoria sul Brinzio, un altro capolavoro? Sì, esatto. Finalmente sono riuscita, stiamo a dare la seconda vittoria, sono molto contenta. Fino all'ultimo ho tenuto duro perché comunque ho preso dagli ultimi 250 metri che ero in testa, però la strada saliva e comunque mi ha aiutato, diciamo, e sono riuscita ad arrivare a tagliare il traguardo per prima. Come si è sviluppata l'azione decisiva? L'azione decisiva, insomma, che durante i giri qui nel percorso dove c'era la salita quella un po' più dura, che per uno strappetto ho provato per vedere di fare un po' selezione, infatti da 3 minuti ci sono rimaste comunque in 5, però dopo alla fine è assolutamente buona, fino alla fine. La tua eccellente condizione di forma è stata dimostrata anche dalla tua prestazione ai muri fermani, sei soddisfatta quindi? Sì, sono comunque molto soddisfatta di come è andata con le professioniste muri fermani, è andata bene, fatto di sottesima, è andata bene. Adesso in prospettiva o affida? Esatto, sì, spero di dire la mia, affida ai campionati europei. Grazie mille, complimenti. Grazie mille, complimenti.